Siamo in collegamento con Raffaele Iosa e con Massimo Nutini. Raffaele Iosa già ispettore scolastico, si è occupato per molti anni di problemi dell'inclusione, ora durante la fase di emergenza si è occupato proprio della pedagogia dell'emergenza, anzi ultimamente ha coniato anche l'espressione pedagogia della pandemia. Massimo Nutini è stato per molti anni un dirigente di enti pubblici, precisamente nel comune di Prato, si è sempre occupato molto anche dei problemi del sistema di istruzione, del sistema di educazione, attualmente collabora ancora con l'Anci, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. Allora con loro parliamo del provvedimento che è stato varato dal governo proprio venerdì sera, cioè il cosiddetto decreto sostegni, decreto che contiene un articolo molto importante per le scuole. Di che cosa si tratta ce lo spiega Massimo Nutini. Grazie Reginaldo, buonasera a tutti. Questo articolo 29 è uno stimolo unico a riprendere un cammino assieme le scuole e gli enti locali. Forse è nato per risistemare un'idea che inizialmente era partita con l'idea di prolungamento del calendario scolastico che si è poi verificato impossibile perché è competenza delle regioni, perché ci sono i sindacati eccetera, però diciamo è venuto bene perché ha disegnato la possibilità di costruire un ponte tra la fine di un anno scolastico e l'inizio di un altro anno scolastico potenziando sia l'offerta estracurricolare sia un'offerta per il recupero di competenze di base e consolidamento delle discipline oltre che per il recupero della socialità. I soldi ci sono perché oltre ai 150 milioni che stanzia quell'articolo rappresentano i 150 milioni il 40% del totale perché l'altro 60% viene dai fondi PON. Quindi complessivamente c'è una cifra importante che si stima, se tutti gli istituti faranno domanda, in circa 45 mila euro di istituto e c'è da mettersi a lavorare perché ci sono da fare accordi, progettazioni, bisogna coordinare le iniziative che già ci sono a livello locale, però è un'occasione veramente importante per riprendere un percorso di alleanza anche educativa, istituzionale tra la scuola e gli enti locali, aprendosi a tutte le opportunità del territorio. Raffaele, forse con questo provvedimento si avvera anche un piccolo sogno, cioè che è quello della realizzazione del sistema formativo integrato di cui si parlava già negli anni 60, negli anni 70, di cui parlava Bruno Ciarri, di cui hanno parlato poi tanti altri dopo di lui e forse ci sarà anche la possibilità davvero di dare attuazione ad un articolo del regolamento sull'autonomia, cui so che tu tieni in modo particolare l'articolo 9 sull'ampliamento dell'offerta formativa. È così? Sì, credo che questa sia una vera opportunità che è ovviamente piena di rischi, di essere fraintesa e di non essere utilizzata. Bisogna quindi aver chiaro il fatto che noi riusciamo ad aprire esperienze educative, esperienze sociali, vedi non uso la parola scolasticistica scuola, ma è qualche cosa di più ampio, intanto perché c'è un'emergenza e quindi queste attività sono un ristorno che noi diamo ai bambini e ai ragazzi delle ferite che hanno subito nei grandi e lunghi periodi di chiusura. È una ristabilire in un qualche modo in loro, nel miglior modo possibile, socialità, voglia di vivere, stare insieme, costruire competenze e così via. Fatto come? Attraverso un'idea di ampliamento. L'idea dell'ampliamento dell'offerta formativa non era quella di fare un progettino ogni tanto magari comprato, ma quello di capire che la scuola non è fatta nei libri di testo. Ce lo diceva Gianni Rodari, la scuola è grande come il mondo. È fatta dal territorio, dalle esperienze che puoi vivere lì dove la scuola si intrescia, appunto Bruno Ciari, ed è un ampliamento che non vuol dire aumentare in altezza, ma in largo. Implica quindi, e sarà necessario per la scuola, immaginare dei progetti di ampliamento che abbiano una forte valenza educativa e sociale, più che curricolare, ma che si allargano dentro al territorio in cui vivi e magari anche intorno. Ecco, questa roba potrebbe non solo essere il ristorno educativo, io lo chiamerei così se dovessi fare un titolo che è necessario, tanto quanto diamo ai ristoratori o alle piste di sci perché non hanno sciato, ma diventa anche una pratica di un'esperienza di rapporto col territorio che molto spesso la scuola non utilizza, isolata e chiusa in se stessa, non ha rapporti che rendano ogni luogo della città educativo. Ecco, potremmo cominciare a ripensare a città educative, è un piccolo seme interessante. A Massimo Nutini chiederei questo, secondo te ci sono le competenze, le capacità negli enti locali e nelle scuole per realizzare un'attività, una progettazione di questo genere, che non è una cosa da poca, è una cosa importante, richiede risorse umane, richiede competenze, richiede anche tempo. Ci sono le condizioni secondo te? Reginaldo, le competenze e le professionalità ci sono sicuramente. Il grande rischio è che non ci sia più la voglia di imbarcarsi in avventure di questo tipo perché in questi 20 anni sono stati 20 anni di tagli, tagli di risorse, di appesantimento burocratico, di dirigenti scolastici che si sono trovati a fare il dirigente amministrativo, di dirigenti comunali che si sono trovati meno risorse e meno personale. C'è una svolta in atto da questo punto di vista, ci sono più soldi anche su questa cosa. Ora bisogna fare in modo di stimolare che queste competenze si attivano e vengono fuori. Per fare questo bisogna supportare, cioè bisogna dal centro dare strumenti per semplificare la parte amministrativa complessa, come te hai giustamente detto, ci vuole tempo, ci vuole lavoro per definire la delibera del Consiglio d'Istituto, l'atto approvativo del Collegio dei docenti, l'accordo di rete, l'accordo con i sindacati per un qualcosa di salario accessorio, un DVR Covid per questa specie di attività. Fanno paura solo a dirle queste cinque cose, invece si possono scrivere dei modelli, possono essere di una, di due pagine. Quindi diciamo che forse possiamo anche avere l'ambizione di lanciare un'idea, una piccola proposta al Ministero, cioè forse potrebbe essere il Ministero stesso a suggerire alle scuole e agli enti locali gli strumenti da utilizzare. Tu cosa ne pensi? Sicuramente Reginaldo, sicuramente sì. Bisogna, il Ministero ha in mano la possibilità di far avere un grande successo, un investimento verso il futuro a questa iniziativa oppure può farla fallire, a cominciare dall'avviso pubblico. L'avviso pubblico sarà semplice, distribuirà le risorse sulla base di un semplice progetto di massima, di un'idea progettuale, senza chiedere tanti dettagli, tante cose già firmate. Aiuterà le scuole. Se l'atto che approverà l'avviso pubblico approvasse anche dei modelli a titolo collaborativo da poter utilizzare modificandoli in piena autonomia per quegli atti che dicevo prima, per ognuno di quegli atti che dicevo prima, questo sarebbe un modo di sollecitare, di vincere le resistenze che sicuramente si potranno trovare sia nelle scuole e sia negli enti locali. Una domanda per Raffaele Iosa. Raffaele, tu hai già qualche idea pedagogica su che cosa si può fare. Mi parlavi in un'altra occasione di iniziative anche sul tuo territorio, alcune molto curiose, molto interessanti. Cosa ci racconti a questo proposito? Sì, ci stiamo lavorando molto. Anzi, fra poco produrremo non casi già fatti, casi tipo. È certo che stiamo lavorando e ho capito lavorando che dobbiamo evitare il rischio di pensare che la cosa deve assomigliare alla scuola, l'orario sempre le stesse robe e così via. Allora, il caso più interessante che sto lavorando proprio in queste ore, due terze medie di un paese qua vicino a Ravenna, i professori hanno pensato che la cosa più bella per questi ragazzi, visto che loro vanno via poi, sia quella di immaginare di fare con loro 4-5 giorni di cammino nello stile Santiago. Lo faranno nell'Appennino Toscomiliano, la cascata di acqua chetta, Camaldoli, insieme giorno e notte, di notte a vedere le stelle, assieme ai loro insegnanti. Cerca di capire la valenza pedagogica di quello che dico. Impareranno gli alberi, impareranno le stelle certe, certo, ma nello stare insieme anche di notte e nel vivere un'emozione che non gli capiterà mai più nella vita. Tu gli dai davvero un ristoro educativo che se lo ricordano finché vivono. Non è la gita scolastica classica, no? Nell'esempio che ti ho fatto. Perché questi insegnanti hanno capito che dovevano dare ai ragazzi degli eventi veri. Non spettacolo da Mirabilandia. Noi abbiamo Mirabilandia qui, cosa costa portare i ragazzini a Mirabilandia? Ma non è quello. Ecco, la valenza pedagogica è questa. Fare in modo che quello che accadrà non a noi, ma neanche diverta nel senso dell'uasir, ma crei emozioni, esperienze di vita comune che li ristabilisca rispetto a dei mesi terribili. Questa è la linea pedagogica sulla quale io mi sto muovendo. E casi tipo, a questo punto, possono nascere facili. Ma questo suggerisco agli insegnanti. Non pensare di coprire un mese intero. Può anche passare un'esperienza di 5-6 giorni, ma deve avere un obiettivo educativo. Senti Massimo, nel provvedimento ad un certo punto c'è una espressione che forse è un po' ambigua, ma che al tempo stesso forse è anche un po' un'apertura. Si dice di attività che si possono fare anche durante il periodo di sospensione della didattica vera e propria, quindi anche durante l'estate. Come la vedi tu questa espressione che è stata inserita nel provvedimento? È un bene o un male? Grazie Reginaldo per questa domanda, perché su questa parola anche io ci ho riflettuto molto. Appena l'ho letta l'ho vissuta male. Ho pensato che era il modo di dare una scappatoia per non usare le risorse per creare questo ponte, per non lasciare soli i bambini e i ragazzi in questo lungo periodo di interruzione fino al prossimo anno scolastico. Poi invece quando ho riflettuto sulle cose che dicevo prima, sulle difficoltà e ho cominciato a sentire qualche telefonata di resistenza sia da parte delle scuole che hanno detto guarda cosa ci buttano addosso a ora, ma perché non hanno dato questi soldi ai comuni che queste cose le hanno sempre fatte e le sanno fare meglio? E anche degli assessori che hanno detto ma come fanno fare centri estivi alle scuole, ma gli edifici sono nostri, le utenze le pagliamo noi, la luce, l'acqua, l'aria condizionata dove c'è. Ho detto, acci, quell'anche può essere un aiuto a diluire di più questi progetti per farli poi penetrare nell'inizio dell'anno scolastico. Raffaele, nel provvedimento, ma forse più precisamente nel comunicato che il Ministero ha fatto dopo l'uscita del, dopo l'approvazione del decreto legge, si usa l'espressione ponte, cioè attività ponte fra la conclusione dell'anno scolastico 2020-21 e l'apertura del nuovo anno scolastico, il 21-22. Ti piace questa espressione ponte? Sì, mi piace molto, anche perché dà l'idea che senza il ponte c'è un baratro, c'è una frattura, c'è una rottura, ed è così. Per il secondo anno molti ragazzi rischiano di finire l'anno avendo fatto pochissima scuola. Augurandoci che il virus con il tempo ci dia meno drammi e che le vaccinazioni funzionino e che quindi si vada verso il positivo. L'idea del ponte dove insieme si cammina, la metafora del ponte del cammino è esattamente uguale all'esempio che ti facevo prima, lo trovo interessante. È essere a metà di un guado nel quale il ponte ti aiuta e lo devi fare insieme, mi pare giusto. Bene, grazie a Raffaele Iosa, grazie a Massimo Nutini, sicuramente torneremo a parlare di questo problema perché è il tema di questi giorni, sarà il tema delle prossime settimane. Massimo Nutini e Raffaele Iosa stanno lavorando su questo e quindi ci risentiremo, ci riparleremo per capire se hanno qualche idea ancora più concreta di quella di cui abbiamo parlato stasera. Grazie ancora a voi. Grazie a tutti.